I carabinieri della stazione di Fossombrone hanno tratto in arresto un trentenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno sottoposto a controllo un giovane trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana. Gli accertamenti successivi hanno permesso non solo di risalire a chi gli aveva venduto la droga, ma di constatare come in più occasioni e con una cadenza di circa una volta al mese, il ragazzo si era rivolto al trentenne per l'acquisto dello stupefacente. Il Fossombronese è stato sorpreso a bordo della propria auto tra le vie del centro storico e trovato in possesso di uno spinello già confezionato. La successiva perquisizione, nella sua abitazione, ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 30 grammi di marijuana e 10 di hashish, nonché un cospicuo materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tra cui due trituratori, un bilancino di precisione, taglierini e tutto l'occorrente per il confezionamento delle singole dosi. Il giovane, subito dichiarato in stato di arresto, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All'esito della convalida gli è stata applicata la misura dell'obbligo di firma, risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dunque resta costante lo sforzo dei carabinieri di Fossombrone nel controllo del territorio, nell'attività di contrasto allo spaccio, in particolare tra i giovanissimi.